Alla disgregazione del regno miceneo a livello territoriale e politico corrisponde la formazione di piccoli centri governati non più da uno wanax, cioè da un monarca autoritario capo militare che accentrava su di sé il potere politico, ma da un altro tipo di struttura. In realtà il potere era in mano alle famiglie aristocratiche e il Basileus, se vogliamo l'erede del wanax miceneo, era semplicemente un'autorità formale ed è condizionata dal potere delle grandi famiglie aristocratiche. Basileus, non a caso, nel lessico miceneo indicava il funzionario di palazzo. Perché queste famiglie erano così potenti? Perché erano le uniche ad avere possedimenti terrieri, la base del prestigio e del potere all'interno della comunità. Disponevano di maggiori quantità di cibo e di animali e avevano a loro servizio molti contadini. A questo periodo, precisamente al 1044, secondo la tradizione tramandata da Eratostene, astronomo e scienziato greco dell'età ellenistica, dunque un secolo dopo la fine dei regni micenei risalirebbe anche la cosiddetta prima colonizzazione. Le genti che erano subentrate ai micenei si spostano dal continente greco verso le coste dell'Asia minore, l'attuale Turchia. Secondo lo storico Domenico Musti, a differenza dei micenei che si limitarono a frequentare quest'area per i loro commerci, i popoli che avevano occupato la Grecia continentale fondano vere e proprie città. Due in particolare. A questo periodo risale infatti la fondazione di due città, Efeso e Mileto, due città molto importanti anche alla luce dei successivi sviluppi della storia greca. I micenei, come attestano i ritrovamenti archeologici, conoscevano solo il bronzo. Intorno al 1050 a.C., nel periodo che stiamo analizzando, è documentato l'uso del ferro, che portò un decisivo miglioramento nella costruzione degli attrezzi agricoli, degli strumenti di lavoro e delle armi.